it's me mario benvenuti ragazzi al mio canale io sono super mario vj e oggi siamo qua con PES 2016 vi voglio portare la road to the vision one su PES 2016 sul my club andiamo subito ragazzi ad aprire un pallone per uefa champions league star r16 week 2 80 più andiamo subito ad aprirlo paga con gp si paghiamo subito andiamo subito a vedere un giocatore raga fortissimo sopra gli 80 più ok schiacciamo dai ti prego ti prego ti prego un giocatore bello un giocatore bello un giocatore forte forte un 80 più forte un 80 più forte speriamo che sia un forte 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 che cazzo sai chi è magari è forte 80 però sono 80 daccelo un pochino più forte no apriamoci un attaccante raga 35.000 c'è 35.000 con 10.000 vediamo se troviamo un giocatore forte ti prego dai ecco qua e qua ci sono i gialli i palloni gialli che sono quelli sotto al nero e guarda caso secondo me capiterà proprio un giallo come non detto è capitato un giallo siamo di forte di un giocatore forte chi è chi è chi è questo 78 zalai zalai in zaghi leggenda 85 ecco qua siamo già in divisione 8 perché ho già giocato e ho fatto un po' schifo come avete detto da storico vinto sconfitta vinto sconfitta 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 abbiamo fatto cinque sconfitta e due vittorie qua è molto difficile a giocare a sto cazzo di pass ma ci proviamo ci proviamo dai dai che non so tira si si gol gol non è fuori gioco gol è gol si si è gol 1-0 aiaiaiaiaiai difendete 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 di non è facile fare gol qua vai attacchi fai gol vai che nostra fuori vai tira si si è un altro gollazzo Buona, la ti trovo da fuori area Beh, è bomba Bella, vai che sale, sì Vai chi sei tu Vai chi sei tu, vai chi sei tu, sì Entra, no, sì Sì, che grande Che grande C'è una fitta C'è una fitta, la tira, la tira Sì, grandissimo Grande Finisce il primo tempo, Juventus 4 Slebanfica, 1 Tagliela, tagliela Tagliela che da solo Tagliela che da solo, la tira No, fuori la tira Come cazzo fai Inzaghi a tira fuori No, 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 no Ci frega, ci ha inculato Ci ha inculato, ci ha inculato Perché sono stato coglione Ah, sì Dai, sì No, portiere che salta L'angolo di testa, sì Dai, dai che No, fuori, Inzaghi Sta testa, cavolo Sì, nostra Finta Bella Tira, tira, tira Sì Così, Inzaghi Gole a Doha Inzaghi numero 1 Dai, che faccio No, è finita Sì Vai così Prima vittoria 5 a 2, ragà Dobbiamo 9 punti Dobbiamo vincere Ci mancano 2 partite Dobbiamo vincere Almeno una Portiere 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 No Cavolo Ci ha inculato Ma no Ma no Ma no L'ho vista fuori Ma no Ma no Ma cos'ha Fai una finta Sì 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 C'è grande finta Grande tiro Numero 3 Chi sei Chi è il numero 3 Così No Azzo Rosso Rosso No Rosso No Rosso diretto Adesso giochiamo con un uomo in meno E ovviamente Ovviamente Questo ci segna Fuorigioco però Non è fuorigioco Aiuto No Stavo facendo Una minchia Finita E' finita Dai Dai Che non è finita Dai Che non è finita Qua finisce questo episodio Della Roto Division 1 Su MyClub PES 2016 Se vi è piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi al canale E ci vediamo Con il prossimo episodio Bella